C'è un pezzettore di cane? Esatto, che va a fare il primo strato. E quanto li vendi? Normalmente, tutto viene venduto. Questi, fino ad ora, non li abbiamo ancora venduti, perché siccome è una campagna contro l'acqua dell'alcol, adesso lei ha fatto progetti in giro e li offrivamo. Non lo saprei, sinceramente. Beh, oddio, se ci metti un po' di roba da mangiare assieme, se ci metti un po' di roba da mangiare, può arrivare a cinque euro. Se non ci metti un po' di roba da mangiare, due ore e mezzo, tre euro, dipende. Esatto. Diciamo che il professore stava lavorando per far sì che entrino anche nel mondo delle discoteche, dei cocktail, già in alcuni bar, alcuni locali, anche alcune discoteche, ma se ne sono poche, ne troviamo, diamo i codici. Solo che hanno un costo un po' elevato. E il nostro scopo, appunto, era quello di farli conoscere un po' in giro. Solo a Vicenza ci sono bar in cui li fanno, proprio questi cocktail, perché appunto ti lascia le albe, gli ulse, e quindi, poi lo mettiamo, peffè aromatizzato. Aromatizzato, Anna, non c'eva bene, non c'eva bene, non c'eva bene, non c'eva l'aromatizzato. Perfetto. Ci serve solo per affreddarlo. Esatto, deve servire a freddo per la panna. Panna in frigo. 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 che vi sono un po' di il difficile è quello questo è quello che meriterebbe la Coppa di Martini doppio per farlo più evidente e giusta anche la quantità di prodotto per sentire la panna grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.